action dal vostro moris san buongiorno a tutti amici e benvenuti nell'angolo intervista oggi abbiamo nostro amico massimo michele guerrieri ciao massimo come stai ciao ciao un saluto a tutti molto bene molto bene grazie non devi si deve dire sempre si combatte mai dire bene perché altrimenti ti gettono le energie cattive allora io mi sono scritto ovviamente non hai bisogno di grandi presentazioni perché già i nostri amici nella piattaforma ti conoscono abbiamo fatto diverse interviste sui tuoi libri e dove parla appunto il nuovo ordine mondiale quindi anzi consiglio per chi magari avesse mai letto i libri di massimo di leggerli non solo letture facili nel senso che si raccontano delle verità quindi però meglio la verità che una buona bugia mettiamola così allora massimo dove siamo rimasti dove ti trovi adesso beh siamo rimasti che eravamo a new york l'ultima intervista che abbiamo fatto era ancora a new york poi ho un fretta e furia dovevo partire giugno invece vista la situazione mi sono deciso a partire il 18 di aprile sono arrivato qua il 19 di aprile e mi sono sistemato a sud di dare salam che è il grande porto della tanzania in un piccolo resident dove sono rimasto molto bene per tre mesi ho cominciato a fare le mie ricerche sull'oro per vedere di fare qualche cosa anche qui localmente ho incontrato molte persone molto disponibili sono molto disponibili tanzaniani e sono riservati ma molto cortesi diciamo così e mi sto trovando benissimo dopo tre mesi ho deciso di prendere un piccolo appartamento qui vicino al mare possa andare tutti i giorni al mare senza problema ma la cosa incredibile la cosa più devo dire più fantastica che veramente una sorpresa è stato il clima perché io sono arrivato alla fine della stagione delle delle piogge sostanzialmente il clima temperatura era già ottimale 27 28 gradi e da allora sino adesso siamo in una primavera un misto tra una primavera un'estate sempre ventilato con vento secco quindi il caldo c'è è caldo sono anche 30 32 gradi però viene tutto mitigato da questo venticello che soffia continuamente è veramente una cosa fantastica chi abita qui non se ne accorge ma se vieni da New York col clima che noi abbiamo in New York è già un piacere per me solo ecco essere in questo ambiente qua quindi mi sono sistemato in un village eh per darti la risposta tranquillo ho un bel appartamento pensa spendo 120 dollari al mese eh 120 dollari al mese con l'acqua inclusa eh prendo una sciocchezza di elettricità gas internet forse in certo senso il costo maggiore e che funziona e non funziona speriamo che stasera legga sono veramente contento della domande su questo infatti visto che la gente come tu saprai tu come me è andato via perché sa che sta arrivando uno storo quindi parleremo appunto per tutte quelle persone che ci contattano perché il bello lo sai cos'è se uno vuole trasferirsi in Tanzania è giusto parlare con uno che ci vive se uno vuole trasferirsi Sud America è giusto parlarci con uno che ci vive non col sentito dire mio cugino mio cugino sì la linea va bene ogni tanto magari ti vede l'alentatore ma l'importante è che comunque l'audio sia di qualità ogni tanto si ferma l'immagine ma infatti eh tu dicevi c'è quanto paghi di affitto 120 dollari 120 dollari acqua inclusa ma descrivimi la casa sono sono in un villaggio eh sono in un villaggio quanti metri quadri di quanti metri quadri stiamo parlando allora guarda io ho un ingresso riservato con un cancello e un piccolo cortile sì poi un cuscinotto fuori che comunque c'è tutto poi all'interno ci sono due stanze non piccoline piuttosto da accomodare due letti matrimoniali due bagni e una bella sala ah su ora io sono in una stanzettina sì ora sono in una delle sarebbero 100 euro perdonami 100 euro più o meno sì sono 100 euro e io ho anche un contratto particolare di tre mesi pago ogni tre mesi in genere si pagano sei mesi in attivo conoscevo insomma conoscevo allora mi ho dato un contratto di tre mesi sì invece devo farci dei piccoli lavori piccoli lavorettini perché naturalmente sono entrato non era immobiliato quindi devo comprare qualche cosina però tanto per dare un'idea è sì ma dai ma per 100 euro chi si lamenta voglio dire cioè pensa mettiamoci nei panni di un padre di famiglia che sta vivendo questa guerra in Italia voglio dire poi senti questi prezzi è incredibile ma invece come internet cosa fai e usi quelle saponette ricaricabili o c'è proprio il wifi come funziona no internet funziona così allora c'è da fare questa precisazione prima della crisi covid internet funzionava benissimo poi con il discorso covid mi han detto che il governo in un certo senso sai questa qui è una democrazia un po' particolare perché il paese viene fuori da una rivoluzione comunista quindi in teoria è una social democrazia chiamata così e il governo controlla molte cose moltissime cose ancora però secondo me lo fa in maniera abbastanza intelligente infatti non ci sono imposizioni di nessun tipo quasi niente lascia i cittadini liberi di fare quello che vogliono in questo caso però sono ancora un po preoccupato preoccupati dal discorso covid cioè cercano di tenere secondo me tutto un po' ancora ovattato capito perché non vogliono che le persone vadano in crisi come sta succedendo nel resto del mondo e quindi in questo senso c'è sicuramente un aspetto positivo aspetto negativo è che tante volte siccome non pompano no cioè non alimentano il sistema la rete come potrebbe essere alimentata ogni tanto funziona funziona e non funziona io ho proprio ieri sono andato a fare un contratto con Vodacom che è forse l'azienda più importante in questa zona la recezione è buona per unlimited vuol dire al limite vuol dire limitato proprio per vedere di migliorare la qualità del sito qui sono i momenti in cui addirittura arriva a 20 25 bpi cioè addirittura velocissimo altri che si blocca ma è dico c'è il wifi come ogni caso io sì c'è wifi c'è wifi però io uso sempre il cable al telefono perché come sai il wifi sono sempre onde elettromagnetiche e io se posso ci sto lontano bene bene mi fa molto piacere intervistarti perché tu sei là quindi puoi raccontarci la verità su quel posto là ma obbligo mascherina obbligo vaccini come la situazione allora io poi più tardi ti manderò un video che ho preso ieri il primo video che ho fatto perché voglio far cominciare a far vedere veramente le cose no ma falli con noi li pubblichiamo li pubblichiamo anche lo mando perché lo ho tre volte su facebook non mi ha bloccato la pagina però non mi ha fatto passare il video a meno per ora non si vede niente l'ho postato invece su telegram telegram era accettato per far vedere sono 18 secondi per far vedere che qui la mascherina non ce l'ha nessuno una cosa molto semplice capite c'è c'è proprio le persone no che entrano su questa barchetta su questo imbarcadero vedi una persona su 500 che c'è la mascherina però non c'è nessuno in posizione e quindi te lo mando così poi magari lo metti a un certo punto certo lo facciamo vedere è assurdo e invece com'è l'obbligo vaccinale come sta muovendo il governo allora naturalmente il governo tanzaniano è sotto pressione no allora cosa hanno fatto loro hanno detto va bene noi lasciamo la libertà di scelta chi lo vuol fare capito c'è una zona per esempio si chiama masachi dove ci sono tutte le ville ci sono le ambasciate consolati c'è tutto il personale internazionale naturalmente non volevano creare problemi e allora ha detto va bene chi lo vuol fare lo fa ma non c'è nessun obbligo assolutamente i tanzaniani non importa assolutamente niente di questa cosa qui ti ridono faccia quando li parli del covi che non fanno nemmeno che cos'è assurdo perché non guardano la televisione sì 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 parlami invece di delinquenza cioè sei sicuro quando esci di cosa devi aver paura di niente di niente io sono mi sento molto più sicuro qui quando esco la sera anche tardi che rientro vado con gli amici magari rientro la sera un po tardi e che di quello che mi potevo sentire a new york questo di sicuro non c'è paragone quella tanzania è uno dei paesi secondo me più sicuri d'africa probabilmente più sicuri al mondo perché non dimentichiamoci che sei un bianco tra i neri capito io sono l'unico bianco in questo villaggio eppure sono tutti molto gentili molto cortesi quando vado a comprare la roba buongiorno come sta una cosa veramente inaspettata lì parli parli l'inglese certamente parlo l'inglese lo parlano quasi tutti però le persone semplici sai ci sono molte persone proprio semplici che non hanno studiato l'inglese quindi sto imparando un po di suaili insomma piano piano sai quando vai a comprare le carote le cipolle fai 3 4 5 non hai bisogno parliamo di fare di fare la spesa che divertenti raccontami quando fai la spesa come funziona i costi dove va il mercato come come è organizzata la cosa allora qui quando esco ci sono tanti mercatili sai come ognuno avesse degli stand dove vendono praticamente un po tutte le stesse cose ma poi se fai scusi se fai video se fai video siccome stiamo organizzando delle interviste sulle persone come te io li pubblico nel tg ok si si te li mando volentieri ci mancherebbe altro si quindi ci sono tutti questi negozietti che vendono vari tipi di cose no proprio cose semplici per le cose un pochino più particolari più sofisticati più ricercate allora io vado nella zona che ti dicevo prima a chi dove ci sono i supermercati diciamo all'europea all'americana no allora c'hai più naturalmente offerta la roba costa una sciocchezza la roba non costa niente non so neanche quantificate la compri 10 carote e verdure frutta ma che se spendi due dollari boh fai fatica praticamente non costa niente la roba da mangiare non costa cosa non hai molta scelta te lo dico però se ti accontenti mangi mangi roba fresca genuina perché sai qui la situazione anche dal punto di vista della della produzione no cioè della produzione della 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 semina della raccolta è ancora molto tradizionale quindi non usano tutti questi prodotti che si usa noi che poi praticamente contaminano tutto no c'è proprio coltivazioni molto semplici come le avevamo noi negli anni 50 e 60 quindi sono tutte cose anche molto genuine capito se se le mangi con fresche così come sono le uova sono squisite la frutta è buona non c'è molta scelta questo devo dire nel villaggio almeno non c'è molta scelta però se ti accontenti io mi accontento poi mi vado a fare la mia spesa comprata le mie cose mi piace cucinare quindi io non ho problemi come ieri sono andato a fare la spesa nelle due settimane vado compro quello che mi serve sono posto carne e pesce si trovano tranquillamente c'è un pesce si chiama jumbo che è una cosa straordinaria è un misto tra il sarago la carne di sarago come delicatezza e la carne del filetto francese ma è una cosa che non mai essendo messaggiato un pesce così carne consistente sposta buonissima fai come lo fai e buonissimo ci sono naturalmente eh i polpi ci sono i calamari tutta roba fresca io ho un amico vado una volta due la settimana e mi da il pesce fresco ma invece come ti muovi quando devi uscire cioè hai una macchina allora io no io per scelta mia non ho preso ancora la macchina per due ragioni prima di tutto perché qui si guida alla rovescia e io non è vita no capito guidano a sinistra anziché a destra e mi voglio prendere un po di tempo poi la seconda ragione la principale è che trasporti costano talmente poco che io show mio driver il mio guidatore anche oggi ero con lui sono da prendere la roba gli do una bella mancia che cosa gli do di mancia quando guarda quando sto tutto il giorno con lui è per darti un'idea quando sto tutto il giorno con lui dalle otto la mattina alle sete mezzo sette la sera che poi si rientra lui mi prende 35 dollari 40 dollari massimo una cosa così poi do sempre qualche cosa per darti un'idea capito non ho assolutamente bisogno della macchina costa un sacco di soldi e poi io devo guidare invece io faccio le mie cose capito quando sono macchine guida lui mi guida anche bene è un ragazzo in gamba mi dà una mano anche per tante altre cose e quindi ci vado volentieri non ho intenzione di comprare solo macchina e invece una domanda che mi fanno spesso gli utenti è ciao amore spero io mia madre anziana vorrei trasferirmi con la famiglia com'è la sanità perché tu sai quando vai avanti con l'età la possibilità di andare all'ospedale o di fare delle visite è importante trovare delle strutture come su come sulle strutture sanitarie allora per quello che riguarda diciamo le in piccole emergenze no cioè vai in ospedale c'è un'infezione intestinale queste piccole cose qui non ci sono problemi ti curano bene in maniera molto semplice perché naturalmente non sono così sofisticati come a new york una procedura eccetera magari maniera molto semplice ma efficace e paghi un minimo perché diciamo è statale il servizio però non copre tutti i costi sai quindi come se fosse un copay cioè devi pagare un certo numero un tanto diciamo per i servizi quando invece hanno dei problemi particolari devono fare degli interventi particolari usualmente vanno in india tradizionalmente parlando loro preferiscono andare in india certo il problema che il discorso che fai che fai te dal punto di vista sanità della sanità se vuoi se proprio vogliamo ho individuato è un po il punto debole sai perché se te ti viene per esempio un infarto e te in parte brutto e ti ricoverano ti fanno tutto quello che ti devono fare ma magari in italia ti salvi anzi dovrei dire ti salvavi ti salvavi ti salvavi sono d'accordo adesso ci sono i piedi davanti e qui magari non ce la fanno a salvarti perché purtroppo un infarto quindi la una raccomandazione che ti danno quando vieni di stare attenta a a non farti male a non avere incidenti non fare cose stupide a questa attenti di romperti una gamba queste cose quella è una delle prime cose che ti dicono no viva l'onestà io poi io riconosco sempre i nuovi business manca una cosa bisogna crearla a creare tipo alle canarie hanno creato un sacco di ospedali privati dove sono i migliori dottori e cose varie altrimenti se ti affida la sanità mio dio non esce più ma ci sono ovviamente non le ho detto scusami se ti interrompo ovviamente ci sono delle ottime cliniche a masacchi io stavo parlando delle persone povere 16 mi riferiva a proprio tanzaniani che non hanno la possibilità ma ok per le cliniche quindi esiste occidentali vanno direttamente ci portano direttamente alla miglior clinica capito non c'è discussione se c'è una cosa grave non è che ti tengono lì perfetto invece quanto è complicato per un italiano trasferirsi oggi in tanzania ci sono delle restrizioni particolari con com'è allora ho una ottima notizia che ti do in anteprima che è la seguente e fino a pochi giorni fa la situazione era tale per cui effettivamente non è così facile venire in tanzania voglio essere onesto e sincero bravo la verità il discorso è questo io ho individuato quattro categorie diciamo così privilegiate che sono gli studenti i pensionati i professionisti ovviamente tutti i medici gli ingegneri le persone che hanno una laurea specialmente e poi gli investitori quelli che hanno soldi e vengono comprano un'attività una cosa allora per quello che riguarda queste quattro categorie non ci sono per volare i problemi diciamo così in una maniera o nell'altra vengono con il solito visto turistico io l'invito a venire comunque tutti almeno due tre settimane a vedere prima di spostarsi io non voglio neanche prendermi la responsabilità che prima venite vedete se vi piace poi dopo il programma viaggio viaggio esplorativo sono d'accordo con te sempre esatto io li sistemo per benino in una zona logisticamente parlando idonea dove poi loro costa poco ma si possono spostare al di pepe o dove ero io più vicino e questo per quello che riguarda le persone che vogliono venire in tanzania intendo la terra ora nel usate la nazione tanzania tanzania poi però c'è stata una legge nuova uscita poco poche settimane fa per cui se te compri una proprietà a zanzibar ti danno la residenza pensa te ti danno immediatamente due anni di residenza che te naturalmente rinnovi nel momento in cui tieni la proprietà e pensa che non ci deve nemmeno abitare e che prezzo hanno più o meno una proprietà zanzibar guarda i prezzi sono sono andati un pochino su perché sono arrivati durante la crisi del covid un sacco di russi che potevano venire dalla russia i prezzi sono andati su ma sono sempre prezzi molto più bassi rispetto all'investimento che puoi fare un esempio un esempio giusto guarda i numeri non te li voglio dare perché è una cosa recentissima due o tre giorni fa mi sono già messo in contatto con un responsabile che lavora col governo della di zanzibar che conoscevo insomma ti dico per bene tutti i prezzi eccetera eccetera però te considera che puoi comprare secondo me una proprietà con centomila euro probabilmente ora per sapere 80 mila euro però dico mettiamoci nei panni di chi non può comprare una casa e vuole andare lì in affitto via un'alternativa allora per queste quattro categorie qui che ti ho detto sì che poi sono tre perché gli investitori hanno il problema è il visto certo allora il visto il visto per studenti è molto semplice è il visto classificato ci sono tre tipi di visto visto a per gli investitori tutti gli investitori di varie ordini e tipo visto b che è per chi apre il ristorante anche questo tipo investitore o si è bloccato un po la linea si è bloccato un po la linea e per tutti i professionisti quelli che di bici è quello in questo caso che sì che riguarda gli studenti e i pensionati i pensionati è molto semplice tenati studenti è molto semplice avrei visto per ragioni ovvie uno va a scuola e l'altro può dimostrare che c'è l'inps anche una pensione minima due persone la pensione minima è più che sufficiente per vivere in maniera decorosa qua presente che grosso modo ci vuole dai 500 agli 800 euro per vivere in maniera decente in cui hai tutto tutte le comodità ecco non occorre che spendere grandi altrimenti bisogna sempre tenere presente una cosa che siamo in africa ora la tanzania non è il senegal non è la sierra leone tutta una cultura completamente diversa io questo ve lo posso dare per certo però siamo sempre in africa bisogna te lo sai bene quando vai all'estero bisogna adattarsi inutile stare a dire o aveva appuntamento quello lì in ritardo o il caffè non mi è piaciuto no queste cose qui lasciatele fare adattarsi allora se uno si adatta un attimino non non ci sono problemi quindi per l'affitto poi bisogna sì evento evidentemente chi viene con me grazie a me che sono già qui e grazie all'agenzia lì si trova la maniera di trovarle anche l'affitto temporale adesso parliamo di questo servizio che offri tu ma devo farti altre domande prima ci sono anche a casa e con l'aria condizionata sì certamente perfetto l'aria condizionata e ce la metti nessuno ti può vietare ma è invece dico eh per quanto riguarda l'energia un problema che accade anche dove vivo io salta la corrente diverse volte durante il giorno lì com'è la situazione stessa cosa stessa cosa però 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 salta cioè la devono staccare perché stanno lavorando sulla linea stanno cercando di migliorare la linea a me la corrente tieni presente mi manca ogni tanto in una settimana mi manca tre ore a quattro ore ma il sabato mattina in genere non so perché staccano sabato mattina ma no no ma infatti io io lavoro con un gruppo di continuità qua perché altrimenti non riuscirei a lavorare con computer ma a volte salta anche per un millesimo di secondo e quando hai un computer fisso che una batteria si spegne quindi ti fa per il tuo lavoro eh sì eh sì sinceramente è tutta il paese è in crescita il paese è in enorme crescita la Tanzania è l'unico paese al mondo che dal duemila è cresciuto dal sei al sette per cento in maniera costante ogni anno immagina questo trend qui dove andrà tra cinque anni quando tutti gli altri paesi tra virgolette competitori sono bloccati dal covid e la Tanzania è libera di lavorare ventiquattro ore al giorno ma io già anni fa disse che i futuri biliardari saranno africani perché mancando tanta roba puoi fare tutto puoi fare strade pali luci puoi fare tanta roba da fare tutto qui ancora è la situazione che avevamo in Italia negli anni cinquanta se uno viene con le idee chiare con un po' di soldi in tasca qui fa un sacco di soldi questo te lo dico guarda c'è da lavorare sodo non è che c'è da lavorare ma facciamo un passo indietro però mettiamoci nei panni di un padre di famiglia che dice padre di famiglia marito e moglie due figli che ha i soldini magari vuole trasferirsi là vi è il modo comunque di entrare cioè se dimostra il governo che per esempio nel conto corrente ha una cifra x vi è il modo che ti fanno entrare in molti paesi ti dicono requisito devi dimostrare di avere che ne so diecimila sul conto ventimila sul conto allora per loro che non rientrano in queste quattro categorie è un pochino più complicato devo essere estremamente onesto perché perché in teoria devi comunque comprare qualcosa devi avere i soldi per comprarti la residenza però adesso c'è la l'opzione zanzibar c'è più questo problema io li porto a zanzibar voglio essere onesto perché tutto più semplice poi dopo poi dopo il vantaggio è questo che una volta che ti sei sistemato come anche come investitore a zanzibar sono un pochino più avanti e un pochino più aperti nel discorso impresa anche per una ragione molto semplice che la presidente attuale la signora samia viene da zanzibar quindi è lei che pompa anche questa cosa qui capito con il suo team diciamo così quindi stanno arrivando un sacco di investimenti hanno chiuso un contatto con i subcoreani per fare un nuovo po di 60 miliardi di investimento credo e si stanno muovendo in quella direzione lì poi 11 quando uno poi si è sistemato un attimino a zanzibar come imprenditore soprattutto se vuole poi si può spostare dall'altra parte certo allora quando un arriva come visto normale li danno tre mesi vediamo per la per facciamo un discorso generale è molto generale visto turistico di tre mesi che comprano su internet per 50 euro a a membro di famiglia eh cosa 50 e vengono e stanno in linea di massima tre mesi quando arrivano alla dogana devono dire la verità sono venuti in tanzania per visitare il paese mi piace voglio avere sufficiente tempo per chiarirmi le idee quindi in quel caso ti danno tre mesi bene il il visto è rinnovabile per un altro mese per cortesia l'immigrazione te lo rinnova gratuitamente per un altro mese però dopo alla fine del del quarto mese te devi appunto avere già le idee chiare su quello che vuoi fare io per esempio in questo particolare momento mi sono messo d'accordo con un amico un amico io ho preso un visto di business no per tre mesi ho già avviato tutta la pratica eh come pensionato eh perché c'ho un po' di pensione e poi ci avrò anche un po' di pensione dall'Italia e allora io mi prendo quella lì perché è la cosa più semplice da fare chi non è invece ancora in età pensionabile bisogna che eh eh se compra un'attività eh se se compra una proprietà scusa a Zanzibar risolve il problema il problema rimane come residenza capito come residenza almeno lo risolve può stare qui legalmente poi per quello che riguarda il lavoro bisogna che in relazione all'esperienza che ha gli skills e tutte queste cose qui si metta si tira sulle maniche e e capito per esempio qui vicino a me dalla ricerca che ho fatto io ci potrebbe stare una bella pizzeria che vende pizza al taglio perché non ce ne sono e e e tanzaniani le piace la pizza come se le piace ma non la mangiano mai perché non ci sono pizzerie questo mi ha fatto un esempio molto semplice capito quindi però bisogna che vengano faccio e poi poi io mi sono messo d'accordo poi per tutto e poi c'è una categoria quella che ti dicevo di persone mettiamo al caso un elettricista che parla comunque un pochino di inglese in teoria non rientrerebbe no nella categoria con i medici gli ingegneri eccetera però se l'elettricista è bravo e sa fare il tuo lavoro e lo trova sicuramente qualcuno che lo sponsorizza perché gli elettricisti qui non bravi ce ne sono pochi capito dipende più importante che uno sappia fare il proprio lavoro e lo sappia fare bene allora in quel caso esperienza è più facile esatto essere una persona seria eh dire se dice di di sapere fare una cosa la deve sapere fare ovviamente anche sì dimmi scusami ovviamente gli sti scusa se ti ho interrotto ovviamente sono in proporzione al posto giusto sì però vale e quello che vale in tutti i posti quando te sai fare bene il tuo lavoro e sei un operaio specializzato guadagni sempre di più come per il costo vita rispetto al tanzaniano normale te guadagni il doppio guadagni anche il triplo facendo lo stesso tipo di lavoro capito allora una domanda che mi fanno spesso come tu saprai nella società moderna noi siamo un po' come dei gattini abituati con le crocchette andiamo a supermercato ci hanno abituato in quel modo là allora molti prima di trasferirsi in un paese tu vabbè hai girato il mondo hai vissuto in diverse parte del mondo quindi per te è facile per me è facile ormai un posto vale l'altro però molte persone che stanno vivendo questo momento di guerra perché ricordiamolo che siamo in guerra modo particolare in Italia eh vorrebbero trasferirsi però contare sulla sull'esperienza di persone che vivono su un posto io sono capito male tu dai anche queste consulenze come funziona beh diciamo diciamo come funziona io non ho non ho intrapreso questa questo progetto perché un real estate capito un'agenzia immobiliare e perché voglio vendere proprietà non è questo il concetto il mio concetto è quello di aiutare ad inserire il soggetto o la famiglia all'interno della società quindi è un lavoro un po più complesso ecco perché magari io chiedo una certa cifra che comunque sempre inferiore a quello che chi ti chiederebbe un avvocato che non ti fa poi niente di quanto chiedi massimo quanto chiedi ma dipende dalle dal punto da dalle categorie no come ti ho detto prima ecco ora tanto per darti un esempio te lo dico subito eccolo qua una persona singola io chiedo 2.400 euro se è un pensionato al 20 per cento di sconto una coppia senza bambini 3.300 euro se sono pensionati hanno al 20 per cento di sconto una coppia con uno due bambini chiedo 3.900 euro per nuclei familiari superiori di numero superiore bisogna scegliere insomma ma è cosa cosa vedere caso per caso c'è una persona che fa quell'investimento che cosa gli spetta cosa che cosa trova allora io cerco di dargli un servizio chiave in mano sostanzialmente dalla alla z fino a che entrano in casa anche il discorso dell'oro di ovesta di cui ora poi parliamo brevemente è finalizzata quello nel momento in cui sono tranquilli sono tranquillo che loro sono entrati in casa tutte le obbligazioni finiscono naturalmente rimanga a disposizione per piccola aspetta facciamo un esempio se uno paga 2000 euro è compresa anche la casa come funziona cosa è compreso questo voglio capire no è compreso il servizio per la casa metterlo in relazione prendere l'appuntamento con real estate poi quando compri quando prendi per esempio va in affitto paghi sei mesi di anticipo no più un mese alle real estate in quel caso non devono pagare me perché io il mio lavoro l'ho già fatto pagano in real estate basta no ma io voglio sapere una consulenza se uno vuole una consulenza per esempio telefonica o uno zoom fatta così per esempio di un'ora eh tu offri questo tipo di consulenza mi sento male dicevo se uno vuole una consulenza una zoomata mi senti adesso mi senti allora guarda brevemente ti sei frisato ti dico cosa include se mi senti il servizio o cosa include il servizio allora nel prospetto informativo per chi è interessato eh pagano una piccola fee io li mando il prospetto informativo dove gli spiego tutto va bene allora gli spiego il discorso dell'investimento in oro perché io non posso prendere responsabilità di una famiglia magari intera se non c'è un un impegno che qualsiasi cosa possa capitare loro hanno soldi a sufficienza mi senti ci sei mi sento ti sento forse allora eravamo rimasti eh dunque spiegare la differenza appunto uno tra la consulenza al zoom e uno il pacchetto completo puoi spiegarci bene in che cosa consiste sì certo allora eh tutti coloro che sono interessati avere informazioni dettagliate naturalmente bisogna fare una cosa professionale allora fanno un primo passo è quello di fare una donazione di 90 euro che loro possono fare sul mio sito a mente aperta punto punto nette a quel punto io li mando il prospetto informativo dettagliato dove trovano tutte le informazioni se lo studiano bene e quando hanno tutte le domandine per me quando hanno capito insomma come funziona grosso modo tutte le domande che possono avere me le fanno si fa una videoconferenza e quello è il primo passo il secondo passo che suggerisco è quello di organizzare una 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 visita eh un viaggio storia visita per valutare la fattibilità dell'operazione di almeno diciamo due settimane vengono io li sistemo tranquilli ehm li sistemo in un posto tranquillo qui sul mare così quando fanno anche un po' di vacanza e poi li porto in giro eh gli faccio vedere le varie possibilità per gli appartamenti come si è detta Zanzibar non Zanzibar acquisti eh oppure affitti cose di queste si fanno un'idea generale quando sono sicuri bene 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 che allora li va bene a quel punto si passa al alla terza fase che è quella del contratto vero e proprio cioè loro si presume che tornino in Italia eh preparino le valigie eh prima possibile perché ragazzi non c'è tanto tempo eh e te mori se lo sai bene non voglio mettere urgenza oppure stressare nessuno ecco però secondo me non c'è tanto tempo anche poi per esportare capitali con una certa libertà insomma possono succedere tante cose e eh si 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 inizia a lavorare sul progetto no? Quindi loro pagheranno la prima il cinquanta per cento della fee a seconda del del pacchetto cioè della situazione loro no? Secondo della famiglia persona singola eccetera eccetera eh beh eh avranno già ben chiaro a quel punto no? Tutto quello che devono fare perché ne abbiamo già parlato no? Diverse volte sapranno già esattamente tutto quello che devono fare e e quando arriveranno avranno un'accoglienza eh in linea con un certo servizio per cui saranno presi portati in giro eh da quel punto contatteremo eh l'agenzia del real estate per per la sistemazione eccetera nel momento in cui loro entrano in casa no che proprio entrano in casa in teoria il nostro rapporto finisce poi cosa succede se hanno bisogno ancora di piccole cose io sono a disposizione non ci sono problemi se hanno bisogno di consultare un'avvocata hanno bisogno di un commercialista hanno bisogno di andare a fare la spesa queste cose qui io gli dico dove deve andare dove devono andare i consulenti una cosa quell'altro faccio una è una società di servizi sostanzialmente quella che sto mettendo insieme capito? E lo faccio sull'esperienza cosa importante Morris che mi è data proprio da dalla dal dall'esserci già passato dentro perché io nel duemila sono andato in America e quindi io so tutte le problematiche che si devono affrontare quando ti sposti l'ho fatta prima in America direi con un certo successo perché nell'insieme è andato tutto bene e poi l'ho fatta qui in Tanzania quindi c'è questa doppio diciamo esperienza che credo sia molto importante che non può offrire nessuno perché se te non si sei passato dentro un avvocato un avvocato non te le fa queste cose qui se ti sto intervistando è proprio per questo motivo infatti sono d'accordo io ho parlato con te anche in privato ti avevo raccontato anche io le canarie eh quando avevo messo un filtro allora trovo gente veramente non per il tempo altrimenti trovi duemila persone che ti contattano fanno domande a vuoto e per il tempo prezioso infatti quindi facendo un recap se non ho capito male se una persona paga novanta euro a una consulenza quindi una videochiamata con te si scrivono le domande ti fanno queste domande e tu gli dai già una spiegazione di tutto quanto inoltre gli mandi un'email con tutto già il prospetto per la seconda fase gli inviti in Tanzania per dire fatto un viaggio esplorativo e questo è il segno di professionalità perché anch'io dicevo sempre queste cose alle canarie andate a vedere il posto perché magari non vi piace una volta che avete fatto un viaggio esplorativo allora decidete se andare avanti o meno quindi perfetto come e quindi nel caso trovano queste informazioni dentro il tuo sito a mente aperta punto net ok se una persona vuole una consulenza mente aperta punto net e io presento in maniera sommaria i servizi che offro non dettagliata no no quello lo capito nel senso uno può pagare la consulenza attraverso il sito il sito si si paypal paga attraverso paypal con carta di credito normale invece parliamo di oro io e te in passato abbiamo discusso questa cosa sull'oro perché tu hai un bel rapporto di collaborazione in questa società che collabora con un sistema svizzero se non ricordo male è uno tedesco tedesco scusa tedesco uno può comprare certificati però siete riusciti attraverso anche mio consiglio a vendere anche oro fisico perché come ti ho detto io per esempio compro lo fisico consiglio di comprare un fisico soprattutto quando si è in guerra e purtroppo siamo in guerra come saprai e se non capito male raccontami la due le due differenze tra certificato oppure comprare oro fisico che ti arriva a casa allora diciamo questo facciamo una breve premessa perché è venuto fuori il discorso con au vesta au vesta è una parola che viene fuori da la au che individua nella tabella nella nella tavola degli elementi dell'oro au e vesta che vuol dire moneta in tedesco quindi vuol dire moneta dell'oro moneta d'oro e vorrebbe dire intanto partiamo da lì io avevo bisogno di trovare un istituto che mi desse una sorta di garanzia a queste persone io prendo un impegno con queste persone qui vengono qua poi magari hanno un incidente un'emergenza una cosa una cosa magari appunto di questo tipo qui e vengono a cercare me io non voglio trovare in difficoltà e ho trovato proprio quello che cercavo allora io chiedo a queste persone per un periodo temporaneo di fare un certo tipo di investimenti che dipende appunto dal tipo di famiglia si parte da 30 mila euro minimo e si va su su per comprare e comprare oro in questa azienda perché 30 mila perché in quel caso lì se uno fa gli investimenti 30 mila non c'è agio cioè non ci sono costi di apertura conto eh eh se la famiglia è più numerosa natural più la famiglia è numerosa e più naturalmente questo importo aumenta però si arriva sempre ai 45 massimo massimo 50 mila euro per le famiglie numerose questi soldi sono loro io non c'ho niente a che fare con questi soldi loro investono in oro zecchino al 99 per cento ora a quel punto loro eh io sono tranquillo perché a questo punto loro hanno soddisfatto il prerequisito per poi unirsi al programma e si va avanti si firma a contratto eccetera allora come sai bene quando si ha a che fare con queste aziende bisogna stare molto attenti azienda è la Uvest è probabilmente l'unica azienda in Europa una delle pochissime al mondo che offre il servizio al cliente cioè loro non vendono soltanto monetine d'oro oro loro fanno piani di accumulo cioè con loro puoi fare quello che fai con una banca a fine del mese ti avanza qualche soldo che fai lo metti in banca e la stessa cosa puoi fare con loro puoi versare quello che può fare un piano di accumulo anche a cose anche per chi non è interessato sul piano b ecco questo è un messaggio anche per chi non è interessato è indipendente naturalmente dal piano b perché in un atto di questi soldi da investire non c'è bisogno inizia fa un piccolo piano di accumulo però c'è un costo di circa 750 euro viaggio quindi di apertura conto che poi uno nel tempo recupera per queste cose tecniche io poi vi faccio parlare con con valter manca che è la gente vi spiega tutte proprio queste cose tecniche no quindi voi man mano potete versare questo questo questi sconvertire questi 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 soldi in oro e farvelo mandare a casa perché in questi casi ti dai questo suggerimento ci sono come sempre sai morris nelle cose vantaggi e svantaggi certo ma invece suggerisci questo però per esempio io preferisco come ti ho spiegato io compro il loro fisico mi arrivo a casa e lo conservo dove voglio io quindi questa azienda spedisce anche loro a casa certo io ti ho mandato anche tutti i costi se ti ricordi di trasporto certamente ma per farvi capire che questa si parla di un'azienda che è al top sono super organizzati in queste cose un'azienda super professionale perché non sono tedeschi che non li sfugge un centesimo capito? c'è anche l'acquisto minimo? no sì c'è un acquisto minimo al mese puoi investire mi sembra 25 euro al mese no no dico se uno vuole comprare 50 grammi d'oro può comprarli? certo anche un grammo puoi comprare anche un grammo perfetto sì guardati bene la tariffa che ti ho mandato tu considera che io ricevo cento e mele? non lo so non ci sono problemi io ti ho mandato un coste di trasporto in cui si parla addirittura di un grammo si parte da un grammo d'oro e poi si va su su cinque grammi dieci grammi fino ad arrivare al lingotto d'oro sia per oro che per il palladio che per l'argento che per il platino quindi non parliamo soltanto d'oro qual è il grande vantaggio dell'oro e qui metto a parlare dell'oro morisi potrebbe stare in due parole sono investito io te lo sai ma la gente purtroppo ecco la gente purtroppo non le sa queste cose loro dico agli amici che fate sempre le vostre ricerche non state a sentire quello che vi dico adesso in questo momento io fate le vostre sempre le vostre ricerche poi alla fin fine compratelo dove volete io lavoro come consulente non ho niente da vendervi a parte della consulenza va bene allora il grande vantaggio dell'oro è che sull'oro non c'è tasse allora sull'oro non ci sono tasse e non ci sono mai state tasse ora uno si deve chiedere ma com'è possibile che tassano tutto e non tassino l'oro e c'è una ragione storica una regione finanziaria economica per cui non ci sono tasse perché l'oro è l'investimento privilegiato dei grandi ricchi del Vaticano ovviamente dei gesuiti delle organizzazioni massoniche dei grandi investitori di chi ha veramente potere loro sanno bene che l'unica vera moneta è l'oro quindi investono prima in oro infatti non ci sono tasse perché loro le tasse non le pagano mai non le vogliono mai pagare poi dopo magari si fanno gli altri investimenti come facciamo un pochino tutti però purtroppo nel nel mercato finanziario normale e io lo spiego questo in un video che farò successivamente su quale sto ancora lavorando con la creazione della moneta fiat diciamo un tempo recente tanto per dare una data dal 1914 13 14 da quando è stata costituita la federal reserve in america che è la banca privata federale americana che però non è federale come detto è privata tutta la politica è stata indirizzata ovviamente al prestito del denaro e non dell'oro perché la federal reserve non vende oro è evidente vende denaro quindi è stato completamente eliminato dal portafoglio dei possibili investimenti quindi loro purtroppo sarebbe appunto il primo investimento da fare in famiglia tutti dovremmo avere almeno il 20 25 per cento eh di riserva in oro e addirittura scomparso dagli investimenti ecco questa è la cosa molto importante una delle cose più più importanti che si deve considerare sull'oro sull'oro non ci sono se di successione vale a dire una persona a cento euro euro investiti in oro investiti in oro non ci paga un centesimo ecco l'oro l'oro che si compra con a uvesta può essere in qualsiasi momento eh ritrasferito sul conto corrente a uvesta ha l'obbligo di ricomprartelo eh qualora tu lo volessi qualora non ti fosse recapitato a casa eh questo è evidentemente il caso in cui uno decide di eh eh opta per lasciare l'oro in ovesta l'oro in ovesta beh quando uno decide di lasciare l'oro in ovesta l'oro viene l'oro viene dato un codice un piccolo codice e quello è il tuo oro infatti in 48 ore se te lo ordini ti arriva quindi l'oro è già lì perché viene assegnato un codice in qualsiasi momento te lo puoi non è che si comprano si compra un pezzo di carta o si comprano quote azionarie no? sull'oro si compra l'oro l'oro vero che se vuoi te lo mandano anche a casa e questo in due parole poi ci sono tante altre cose in due parole come funziona siccome in tanti mi hanno chiesto come comprare l'oro abbiamo trovato questa alternativa poi ovviamente invito le persone come dico sempre uno deve sempre provare con piccole quantità certo non compri un chilo compra anche un grammo due grammi vedi la serietà dell'azienda in quanto tempo ti arriva e poi aumenti io in Inghilterra ho fatto così ho ordinato prima cinque grammi poi ho visto la serietà in venti in 24 ore ce l'avevo ne ho ordinato altro e via ma allora invece Massimo parliamo eh dei tuoi libri per le persone che vogliono leggere i tuoi libri sono dei libri molto interessanti per capire anche quello che sta accadendo in questo momento dove si possono leggere o acquistare allora partiamo dall'inizio se eh 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 per chi vive in Italia eh può ordinare il libro alla libreria Mauro di Milano che è il mio distributore ufficiale sì il quale stiamo lavorando molto bene e se non vive in Italia può ordinarlo attraverso eh Amazon Italia perché tutti i miei libri cioè i tre volumi principali il volume quello che vedete qui quello verde volume uno vedete questo il bianco il volume due ho fatto la bandiera italiana e questo è il volume tre sono circa mille pagine tutte a colori di autori completamente sconosciuti al pubblico italiano ehm se vogliono usufruire di un piccolo sconto possono contattare me e io li faccio attraverso il sito mi scrivono e li faccio un picco un piccolissimo sconto tanto eh i libri sono costosi e lo dico anche con con un po' di orgoglio perché ci sono tante informazioni ragazzi non sono cose che ho messo insieme quattro e quattro otto ho pubblicato copiando un po' le cose così e cos'ha da internet come si fa in genere scrivo un libro oggi no se è il frutto di anni e anni e anni di ricerche di letture che io ho fatto grazie al fatto che mi sono spostato in America perché la maggior parte dei libri importanti sono in inglese quindi se non si legge l'inglese bisogna anche saperlo leggere bene eh oppure attraverso l'asconto direi quasi di migliaia di video Morris perché io quando c'avevo un attimo di tempo per passione mi sentivo Manny Pio mi sentivo Jordan Maxwell mi sentivo Franco Collins tutti questi attori qui Justice Mullins ascolti 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 perché la prima volta capisci anche poco secondo l'accento che hanno capito quindi le devi sempre ascoltare ci sei? sì sono qua sto ascoltando certo certo ecco allora allora o poi quando quando è scoppiata la pandemia la cosiddetta pandemia io ho avuto il tempo nella disgrazia di mettere insieme un lavoro che bene o male rimane unico nel suo genere al mondo ora io l'ho scritto in italiano ma comunque come 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 idea rimane quindi diciamo che se uno ha la pazienza di ehm comprarsi o scaricarsi il formato ebook adesso vi dico come funziona e leggersi anche un capitolo alla settimana Morris capitolo alla settimana in tre mesi il libro lo leggi ma ti si apre un mondo completamente a trecentosessanta gradi è una lettura un po' difficile da digerire hai ragione però quando l'hai digerita ti senti meglio sì ti senti e ti sei come come la sensazione come quando ti levi un pesto da dosso prima di tutto perché trovi delle informazioni che non trovi da nessuna altra parte io non lo so se sono tutte vere io ve l'ho riportata come le hanno detto questi autori e ve l'ho selezionata in base a un certo a un certo criterio immagino che siano vere perché hanno poi avuto diversi confronti no diverse verifiche diciamo così quindi sono abbastanza credibile sono molto contento del libro che ho messo insieme per coloro che invece non hanno grandi possibilità economiche possono scaricarsi il formato ebook dal sito a mente aperta punto net il l'ebook e tutte le dispense perché anche i capitoli possono essere comprati singolarmente uno a uno se uno non li vuole comprare tutti sono stati distribuiti da me gratuitamente gratuitamente per circa sei mesi poi dopo portato l'ebook a tre mesi anche perché mi piace dare un piccolo contributo a chi mi dà spazio no fare piccole donazioni ai canali che mi hanno dato spazio ma fino adesso ho lavorato a rimessa ora io chiedo nove euro proprio per coprire principalmente i piccoli costi che io poi do in donazione perché con questi con questo prodotto qui soldi non se ne fa eh naturalmente non ho quasi quasi nessun spazio senti io no non li voglio menzionare chi ci ascolta segue te segue i vari mazzucco mi fate fare i nomi li segui li seguire un po tutti no cosiddetti contro informazione io ho scritto a tutti due tre volte te sei stato uno dei pochi dei pochissimi che mi ha dato spazio gli altri non mi hanno nemmeno risposto lo so lo so conosco quindi con 9 euro e 99 ragazzi vi assicuro fate il miglior investimento che potete fare oltre a questo potete fare 9 98 però 9 99 al contrario non è un bel numero eh ma io l'ho fatto apposta perché se te legge attentamente studia attentamente i i il costo dei libri sono tutti numeri cabalistici sì sì l'ho fatto apposta sì sì se uno se fa un po' di attenzione e l'ho fatto apposta così come tutti i capitoli sono eh tutti moltipli di tre ci sono c'è un codice all'interno lo voglio dire perché questi sono messaggi che io mando agli amici massoni veri massoni veri devono leggere questo libro eh è un è un libro che ho fatto in maniera eh che se dovessi raccomandare come sto facendo lo raccomando proprio a loro tornando e per per concludere non voglio annoiarvi troppo 9 99 tramite una piccola donazione così date anche un po' di contributo al lavoro fatto e a quello che verrà eh eh dopodiché io faccio anche un po' di consulenza perché dopo tanti anni avendo pubblicato su riviste scientifiche avendo scritto il libro avendo una patent insomma un pochino ci sono addentro se uno deve fare un lavoro di ricerca particolare e lo vuol fare magari insomma un pochino professionale no anche insomma un po' di ricerca dettagliata su internet eccetera io mi ci diverto a fare queste cose perché poi in definitiva io mi ci diverto se ti guardi quello che io chiedo quanto costa una donna di servizio in Italia? ascolta quanto costa allora? dipende io conosco più che il mondo ecco con tre con no per dirti con 33 dollari tanto euro scusatemi e io offro sei sei ore di consulenza professionale ma io lo faccio per divertimento capisci non lo faccio per soldi ascolta quei ragazzi che vogliono sapere conoscere e informarsi che hanno questa voglia io voglio vorrei lavorare con ragazzi che hanno desiderio di sapere di conoscere perché è così che nasce il risveglio attraverso le l'educazione e la conoscenza prego Massimo prima di salutarti eh tu hai scritto dei libri che io conosco che ho letto e l'ultimo non l'hai ho letto mi sembra fino al secondo e ovviamente come detto tu hai fatto delle proiezioni di discorsi di autori di gente che ha fatto delle confessioni e ci sono dei passaggi molto importanti le tre corone vaticano state of London eh l'altra cosa si chiama l'America non mi esce il vabbè anyway le tre corone comunque Washington DC Washington DC Washington DC Washington DC e volevo dire dei passaggi molto interessanti perché aprono la mente come vedi i prossimi mesi tu sei all'est tu sei sei andato a vivere un'altra parte io sono andato a vivere un'altra parte perché sappiamo che sta per accadere uno storm però la visione di Massimo Guerrieri allora io ho fatto una serie di pillole di piccoli video che sono presenti su Rambo per chi è interessato il mio canale di YouTube è ancora attivo non hanno bloccato niente sono io che muovendomi in Tanzania ho fatto un pasticcio e adesso devo cercare di trovare la maniera per riaccederci per riaccedere nel canale che me l'ha bloccato però si possono vedere tutti i video fino a un certo punto ho fatto anche quelli del piano B nel quale affronto in maniera abbastanza dettagliata anche il discorso della crisi economica perché è tutto collegato nella puntata che ho fatto che trovate su Rambo trovate alcune brani trovate la puntata 1 2 3 4 5 in cui analizzo alcuni brani presentati come l'hai chiamato il canale Rumble scusa come l'hai chiamato il canale Rumble Rumble se cercano su Rumble no 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 però come hai chiamato il canale hanno col tuo nome nome e cognome Massimo Michele Guerrieri te lo dico subito sai che non me lo ricordo no perché sai uno poi la ricerca però non sa come l'hai chiamato il mio canale Guerrieri Massimo Michele Guerrieri dovrebbero venire fammi vedere ci dovrebbe venire subito no perché Rumble è una piattaforma sì dove non vi è la censura però ovviamente è una piccola azienda quindi i server non sono potentissimi a volte non si trova facilmente MM Guerrieri dovete cercare MM Guerrieri va bene deve essere proprio questo ecco dicevo c'è il leggo le conclusioni leggo le conclusioni e nelle conclusioni io prospetto quello che secondo me succede allora molto in sintesi siamo ancora nella prima fase la prima fase è quella della vaccinazione c'è un finanziamento già stanziato dalla Banca Mondiale per 6 bilioni di dollari fino al 31 marzo del 2025 le vaccinazioni continueranno sicuramente fino alla fine del 2022 perché l'obiettivo primario loro almeno in Europa è quello di vaccinare tutti dentro il 2022 non so quelli che vaccineranno perché molti naturalmente adesso si rifiutano non so quello che succederà però dopo di che ci sarà probabilmente come sai bene l'attivazione del 5G nel 5G dovrebbe avvenire intorno o subito dopo loro ritengono di aver finito la prima fase iniziano la seconda con il 5G l'obiettivo il programma che loro hanno è fino al 2025 nel 2025 secondo quello che ha detto Alice Bailey loro si dovrebbero manifestare in maniera ufficiale ma la manifestazione sta già avvenendo sotto i nostri occhi c'è stato un video caricato su TikTok non su YouTube che mi hanno inviato nel quale un rappresentante dell'Apple presentando l'iPhone 13 spiega che se te non sei vaccinato non puoi lavorare con il cellulare devi presentare la cartina con lo scanner e allora poi accedi alle informazioni se no non ti risponde non ti fa accedere e questo è un video reale purtroppo lo verificate è reale quindi dopo di che nel 2025 è una data importante 2025 probabilmente marzo loro si manifesteranno che cosa vuol dire manifesteranno? non lo so ecco probabilmente succederà qualche cosa a livello di Nazioni Unite nel frattempo ci sarà a un certo punto ci sarà la conversione alla moneta digitale famosa attraverso il microchip che stanno già facendo gli esperimenti alla Sapienza di Milano di Roma te pensa a sto nome la Sapienza si chiama anche la Sapienza smette a fare queste cose dopodiché ci potrebbe anche essere la terza guerra mondiale questo secondo me non è ancora definito non è ancora sicuro però quello che è sicuro è la crisi economica loro hanno bisogno di questo grande shock finanziario perché evidentemente la borsa è completamente gonfiata l'indice della borsa si è stabilizzato guarda caso sopra i 33 è stato pompato fino a sopra i 33 ma rimane lì tra i 33 e i 34 tanto per la numerologia studiando il libro vi rendete conto che i numeri gli emblemi i simboli sono molto più importanti delle parole se non studiate bene quelli come ci hanno ricordato Manny P. All Jordan Maxwell e molti altri autori penserete di capire le cose ma capirete purtroppo soltanto poco di quello che effettivamente succede poi nel momento in cui dono buona notizia credo di aver capito nel momento in cui inseriranno la moneta digitale si ritornerà al gold standard cioè tutta questa operazione qui è tutta questa idea supportata da quello che effettivamente per esempio sta facendo la Cina la Cina sta controllando il 30% delle miniere in Tanzania non a caso e stanno estraendo centinaia di chili migliaia di chili al mese perché vogliono hanno capito che l'unico sistema per ritornare tenere di collegare la moneta digitale si è quello di collegare la moneta digitale all'oro cosa che è confermata dal famoso libro di Ferdinand Lips che io ho usato come base diciamo per studiare un po' tutto questo di loro quando Ferdinand Lips banchiere svizzero ci informa che tutte le grandi civiltà passate tutte le grandi civiltà passate in tempo antico e anche nel 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 diciannovesimo secolo quindi parliamo parliamo del 1800 in cui le monete sono state nonostante le guerre molto stabili sono rimaste stabili grazie al fatto che esisteva la garanzia dell'oro nel momento in cui si è elevata la garanzia dell'oro con l'instaurazione della federa riserve si è cominciata a stampare moneta a quel punto i mercati sono cominciati ad andare in su in giù quindi ecco quindi quello che succederà poi dopo nel lungo periodo non lo so io quello che invito tutti ecco come ultimo messaggio di cercare di stare tranquilli ricordandovi però che la spiritualità la preghiera la meditazione il lavoro di gruppo tutte queste cose seppur molto importanti dal punto di vista personale non sono sufficienti io credo che la svolta si avrà nel momento in cui il risveglio passa attraverso la conoscenza la verità la conoscenza vera delle cose di quello che è successo attraverso la mente aperta bisogna aprirci e capire che dobbiamo investire un pochino del nostro tempo in educazione aiutati che Dio ti aiuta come dice il proverbio spingendo la televisione io dal 2004 non guardo più la televisione e vi posso assicurare lo giuro sulla testa dei miei figli che se io ho preso una pubblicazione su una rivista scientifica una patent bene o male unica al mondo in America e ho scritto questo libro e so qualche cosina poco eh ma qualche cosina è grazie al fatto che dal 2004 non guardo più la televisione almeno come facevo prima guardo una partita ogni tanto no cose di questo tipo la finale della Coppa Europea certamente ci mancherebbe uso il computer uso il computer e sul computer ho accesso a tutte le informazioni eh che e seleziono io tutte le informazioni cercate di levare il demonio che avete in salotto eh levarlo di casa buttatela via dalla televisione la televisione è fatta è la il il media lo strumento che loro usano per alimentarsi perché loro lavorano di energia eh loro vogliono la nostra energia non vogliono i soldi nostri soldi ci sono già finché finché vogliono tagliare la televisione significa eh 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 tagliare la pandemia distruggere la pandemia se non guardi più la televisione non segui più niente cosa fanno gli stati cominciano a scriverti che c'è la pandemia ti mandano la comunicazione che arriva il virus siamo seri sono d'accordo questo è la la prima il primo atto importante da fare nella vita poi vengono gli altri ma io ritengo 30-40 anni che mi occupo di comunicazione fate questa scelta ne sarete veramente contenti bene Massimo io non ho altre domande a farti volevo ringraziarti per il tuo tempo chiedo scusa se ogni tanto si blocca il video però io sono d'altra parte del mondo anche tu sei in un paese le connessioni non sono il massimo però spero che l'audio sia stato sia stato registrato di qualità sì speriamo l'importante il messaggio dovrebbe essere arrivato noi siamo a disposizione tenete presente che sull'oro non dovete pagare nessuna fee cioè chi vuole mi può contattare sull'oro una chiacchieratina ce la faccio veloce poi tanto è Walter Manche che si occupa di tutto chiudo se mi dai proprio 10 secondi leggendovi una massima di uno degli autori forse per me il più importante del ventesimo secolo canadese americano naturalizzato americano esoterista naturalmente iniziato scrittore storico letterato eccetera eccetera di cui non conosce non si conosce quasi niente in Italia si chiama Manly P. All che riguarda l'importanza della simbologia ha scritto quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini un saluto a tutti speriamo di rivederci presto Morris un forte braccio a tutti rimaniamo a disposizione certamente certamente che per la tutta